Massimo Donno ma insieme cosa fanno? Pare che Riccardo Tesi stia facendo una produzione artistica dell'album del canto autore Salmo Chievole dell'album? Fanno un disco? Di questi tempi? Quella crisi che c'è del disco? Non credere perché adesso c'è la possibilità di fare dischi anche in altri modi ad esempio c'è questa cosa che si chiama crowdfunding cioè praticamente ogni persona qualsiasi persona che vuole come dire dare un contributo alla realizzazione del disco lo può fare cioè è come se una persona si acquistasse già in anticipo il disco oppure desse un sostegno alla produzione del disco stesso quindi dai il tuo disco sono bravi no? Sì, sono bravi no? 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 no?